. GF doppia gaffe, Ilari Blasi piccante su Cecilia, Ignazio su Mamma Rodriguez . GF doppia gaffe, Ilari Blasi piccante su Cecilia, Ignazio su Mamma Rodriguez . Sarà la diretta, sarà l'emozione, sarà quel che sarà. Fatto sta che il lunedì sera del Grande Fratello Vip ha riservato un paio di gaffe piccanti che hanno aggiunto ulteriore colore a un reality sempre più bollente. . In tutti i sensi . Ilari Blasi, come se ce non ci fosse abbastanza benzina sul fuoco, scivola in modo piccante su Cecilia e Ignazio. . Il Belmoser completa l'opera durante l'incontro a sorpresa con Mamma Rodriguez. . Intanto il pubblico ride e ulula. . Il divertimento nella casa più spiata d'Italia prosegue, in barba a tutto e a tutti. . . Perché la verità la cantava Freddie Mercury, dei show must go onorevole. . E dunque che si proceda, lo spettacolo, quando piace, e il GFV piaccia ai telespettatori, è come, va avanti. . . . Ilari Blasi scivola, Ignazio va in Cecilia. . Serri cama con Mamma Rodriguez, sono uscito una più bella dell'altra. Ignazio e Cecilia vengono isolati durante la diretta. . Presto potrebbero separarsi, la sorella di Belen infatti verrà eliminata di lì a poco. . In più è imminente l'incontro tra la madre Rodriguez e la figlia. . . La Blasi deve ulteriormente annunciare la separazione temporanea dei due piccioncini, proprio per dare privacy, paradosso parlare di privacy al GFV, ma tante, a madre e figlia. . 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 Tanto complimenti alla mamma perché sono venute una meglio dell'altra, tutte le Rodriguez, ndr. Ilari si pronuncia con un dai, Ignazio. La itante ciclista resta teso e un po' sfasato. La gaffe numero due è servita. Lo show continua. A proposito, altra chicca della giornata, la sorella di Belen ha rivelato che Ignazio è super dotato. The show must go onorevole. Grazie a tutti. Ciao contento. Ciao. Grazie a tutti